Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video con il Lego Magazine. Questa volta Jurassic World, vi lascio qua sopra la playlist dove potete trovare gli altri numeri che abbiamo fatto. Solitamente di Lego Magazine prendo sempre i Marvel perché sono i personaggi che mi piacciono di più, però in questo caso ho voluto prendere questo del Jurassic World perché ragazzi in questo numero, oltre al Mini Raptor, che devo dirvi non è proprio un granché, però c'è il nido del Velociraptor, che mi piace e lo voglio posizionare in un punto strategico, poi magari a fine video vi mostro. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù, vi raccomando iscrivetevi al canale e inoltre vi ricordo che qui sotto vi lascio i miei social, molto importante andare a seguirmi perché vi avviso sempre su tutto quello che esce sul canale, ma anche delle novità dell'edicola, quindi io quando vado in edicola e trovo un bel magazine, ti lascio sempre una storia, quindi molto importante per restare sempre aggiornati. Ragazzi, spostiamoci sotto ed andiamo ad aprire il Lego del Jurassic World. Ok ragazzi, eccoci qui, andiamo ad aprire la rivista e vediamo un po' se all'interno c'è qualcosa di interessante. Allora, la rivista ufficiale Lego Jurassic World, Raptor più nido di dinosauro. Rivista più gioco Lego, solo qui due poster e 14 pagine a fumetto. Allora, andiamo a vedere se c'è qualcosa. Qua abbiamo un Sapevi che con Topolino, Paperinic e tante altre cose riguardanti il mondo Disney. Qui inizia il fumetto, va bene. Poi abbiamo la pubblicità della rivista Ninjago. Dove essere iniziato ragazzi, i Ninjago non mi fanno infazzire, non mi sono mai piaciuti più di tanto. Poi abbiamo i giochi all'interno del magazine. Qui sicuramente c'è il poster. Eccolo qua, il primo ed il secondo. Devo far scegliere meglio. Eccolo qui. E poi andiamo avanti. Qua ci sono altri giochi da colorare. Qui c'è Scappa da qui. Continua poi il fumetto. Peraltro ragazzi c'è questo robot che non capisco chi è. Non mi sembra se mai apporto un robot di una serie Jurassic World. Ma va bene, qui ci sono le istruzioni. Va bene, per costruire il nostro nido di raptor. Adesso ce le guardiamo. Andiamo a vedere se ci parla del prossimo numero. Allora, il pericoloso raptor con rimorchio. Va bene, non capisco bene che vuol dire rimorchio. Tra l'altro colorato, questa arancione e viola, devo dirvi, non è che mi piace tanto. Comunque noi ci posizioniamo sulle istruzioni. Eccole qua. Abbasso un pochino la camera. Così costruiamo insieme il nido di raptor. Come vi stavo dicendo all'inizio video, più che per il raptor, che non mi sembrava neanche un granché, ho voluto prendere questa cosa per il nido. Perché voglio andare a posizionare il nido. Dicevo, lo voglio posizionare nella mia vetrina, che ho appunto dedicato al Jurassic Park. Va bene? Secondo me ci stava benissimo. Vabbè ragazzi, magari vi mando un pochino veloce, perché altrimenti qua ci stiamo due ore. Va bene? Quindi velocizziamo un po' e ci rivediamo appena finito. Grazie a tutti. Ok ragazzi, eccoci qui. Abbiamo terminato. Vi tolgo lo sfondo così vedete meglio. Eccolo qua il nostro nido di raptor. Devo dirvi, il veloci raptor piccolino non è neanche male. All'immagine mi sembrava più bruttino. Guardate dove sta. Eccolo qua, vedete? Non mi convinceva tanto. Devo dirvi che dal vivo la colorazione è sicuramente migliore. Carino il nido. Vedete? Ci sono tutti questi brick che vanno a simulare proprio, diciamo, la pagliuzza, no? Che poi alla fine i rettili, gli uccelli mettono all'interno del proprio nido. Io intanto sto sistemando meglio questi brick. Ok. E devo dirvi carino. Vedete? Ci sono queste uova rotte che stanno proprio all'interno del nido. Carino anche il tronco con l'albero e le due foglie di palma. Va bene ragazzi? Molto molto interessante. Adesso vi faccio vedere dove lo voglio andare a posizionare. Eccoci qui ragazzi, eh? Con il mio spazio Lego Jurassic Park. Peraltro proprio qualche giorno fa vi lascio qui sotto i miei social. Vi ho lasciato proprio un TikTok e un reel su Instagram di questo set. Quindi insomma vi avevo già fatto vedere. Mi raccomando, seguitemi. Se volete vedere tutto quanto, guardate un po'. L'ho posizionato lì dietro. Devo cercare magari di alzarlo un pochino. Adesso vediamo se mettere qualche brick sotto che lo vanno ad alzare un po'. Perché vedete si nasconde dietro il velociraptor. Però mi piaceva molto. Eccolo da dietro. Va bene? Mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like bello come il nito dei raptor. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete collezionato anche voi questo magazine. E se li prendete abitualmente, mi raccomando, quelli che prendete fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero e vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!